Che cosa vuol dire essere mamma? Se c'è una parola che definisce il ruolo delle madri italiane oggi è equilibrio. Ogni giorno sono chiamata ad eseguire acrobazie emotive e pratiche bilanciando lavoro e famiglia in un paese che purtroppo non sempre facilita questa delicata danza. Secondo l'indagine annuale di Save the Children intitolata l'equilibrista, la realtà delle madri italiane è un'arena dove il numero delle nascite diminuisce ma la pressione e le sfide aumentano. Nel 2023 le nascite in Italia sono scese a 379.000. Il numero medio di figli per donna è di 1,20. Tra tutti i paesi europei l'Italia è quella in cui l'età media della madre al primo figlio è più alta, 31,6 anni, e il secondo per percentuale di primi nati da mamme over 40, 8,9%. Mentre la natalità continua a diminuire, si osserva un aumento di figli nati al di fuori del matrimonio. Le madri italiane trascorrono significativamente più tempo con i loro figli rispetto ai padri e per una su cinque la cura dei figli è un lavoro a tempo pieno con orari estesi ed impegnativi. La mancanza di politiche familiari adeguate spinge molte madri a rinunciare al lavoro con una percentuale significativa di dimissioni volontarie tra le donne, spesso a causa dell'impossibilità di conciliare lavoro e cura dei figli. Nel sud Italia la scarsità di servizi influisce negativamente sul lavoro delle donne con figli, contribuendo al declino demografico e alla bassa percentuale di mamme impegnate nel mondo del lavoro. Solo il 35,3% delle madri nel mezzogiorno rispetto al 64% nel centro-nord lavora, collocando la Sicilia all'ultimo posto nell'Unione Europea per occupazione femminile, sebbene sia al secondo posto tra le regioni italiane a fare più figli. Non è una regione per mamme la Sicilia, solo il 30,5% delle donne tra i 15 e i 64 anni è occupato. Save the Children pone la regione Sicilia, strutturalmente più debole in molti settori, dalla vita sociale a quella economica, in terz'ultima posizione dopo Basilicata e Campania. Come parametri sono stati presi l'Indice Generale delle Condizioni di Madri in Italia, la demografia, il lavoro, la rappresentanza politica, la salute, i servizi e la soddisfazione soggettiva. Per citare il libro di Alessandra Minello, curatrice di questo rapporto, non è un paese per madri. Pur nonostante, le mamme italiane sono delle vere eroine che con dedizione e resilienza affrontano ogni giorno con coraggio e amore le difficoltà per garantire benessere dei propri figli. Buona festa della mamma a tutte voi.